Il treno regionale, 21 5 2 6, di Trenitalia, delle ore 5 e 28, per la mezzia terme centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma a Catanzaro, la mezzia terme Nicastro, la mezzia terme San Biase. Il treno regionale, 55 25, di Trenitalia, delle ore 5 e 30, per Reggio di Calabria centrale, è in partenza dal binario 2. Ferma a Soverato, Monasterace Stilo, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno, Locri, Bovalino, Brancaleone, Bova Marina, Melito di Porto Salvo. Il treno regionale, 56 60, di Trenitalia, delle ore 5 e 40, per Sibari, è in partenza dal binario 3. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Simeri Cricchi, Sellia Marina, Cutro, Toscano. Il treno regionale, 21 6 6 7, di Trenitalia, proveniente da Crottone, è diretto alla mezzia terme centrale, delle ore 6 e 28, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Catanzaro, la mezzia terme Nicastro, la mezzia terme San Biase. Il treno regionale, 21 6 7 1, di Trenitalia, delle ore 6 e 30, per Locri, è in partenza dal binario 3. Ferma a Soverato, Monasterace Stilo, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno. Il treno regionale, 56 83, di Trenitalia, proveniente dalla mezzia terme centrale, è diretto a Sibari, delle ore 6 e 35, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Simeri Cricchi, Sellia Marina, Cutro, Toscano. Il treno regionale, 55 26, di Trenitalia, delle ore 7 e 30, proveniente da Reggio di Calabria Centrale, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 56 79, di Trenitalia, proveniente da Sibari, è diretto alla mezzia terme centrale, delle ore 7 e 35, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Catanzaro, la mezzia terme Nicastro, la mezzia terme San Biase. Il treno regionale, 56 49, di Trenitalia, delle ore 7 e 40, per Reggio di Calabria Centrale, è in partenza dal binario 4. Ferma a Soverato, Monastera Cestilo, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno, Locri, Bovalino, Bianco, Brancaleone, Bova Marina, Melito di Portosalvo, Reggio di Calabria Omega. Il treno regionale, 21 9 6 0, di Trenitalia, delle ore 7 e 40, per Crottone, è in partenza dal binario 3. Ferma a Croppani, Botricello. Il treno regionale, 56 63, di Trenitalia, delle ore 8 e 20, proveniente da Sibari, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 21 9 6 2, di Trenitalia, proveniente da Locri, è diretto alla mezzia terme centrale, delle ore 8 e 29, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Catanzaro, la mezzia terme Nicastro, la mezzia terme San Biase. Il treno Intercity, 5 6 4, di Trenitalia, proveniente da Reggio di Calabria Centrale, è diretto a Taranto, delle ore 10 e 44, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Croppani, Botricello, Crotone, Ciro, Cariati, Rossano, Corigliano Calabro, Sibari, Trevisace, Policor Tursi, Metaponto. La prima classe è in testa al treno. Il treno Intercity, 5 5 8, di Trenitalia, proveniente da Taranto, è diretto a Reggio di Calabria Centrale, delle ore 12 e 12, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Soverato, Monasterace Stilo, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno, Locri, Bodalino, Brancaleone, Melito di Porto Salvo. La prima classe è in coda al treno. Il treno regionale, 21 9 5 3, di Trenitalia, proveniente dalla Mezzia Terme Centrale, è diretto all'Ocri, delle ore 13 e 35, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Squillace, Sant'Andrea del Ionio, Guardavalle, Riace. Il treno Intercity, 562, di Trenitalia, proveniente da Reggio di Calabria Centrale, è diretto a Taranto, delle ore 14 e 41, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cropani, Botricello, Cutro, Crotone, Ciro, Cariati, Rossano, Corigliano Calabro, Sibari, Trebisace, Policor Tursi, Metaponto. La prima classe è in testa al treno. Il treno Intercity, 566, di Trenitalia, proveniente da Taranto, è diretto a Reggio di Calabria Centrale, delle ore 17 e 11, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Soverato, Monasterace Stilo, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Siderno, Locri, Bodalino, Brancaleone, Melito, di Porto Salvo. La prima classe è in coda al treno. Il treno regionale, 21 972, di Trenitalia, delle ore 18 e 18, proveniente da Locri, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 56 71, di Trenitalia, delle ore 19 e 20, proveniente da Sibari, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 21 675, di Trenitalia, proveniente dalla Mezzia Terme Centrale, è diretto a Crottone, delle ore 20 e 40, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Croppani, Botricello. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.